Rosa! Rosa Nicolosi! Chi è? Sono il capitano Bellodi! Che volete? Le devo parlare! Mi dispiace, ho una brutta notizia da darle. Suo marito è stato ucciso. Gli hanno sparato. Non sappiamo chi è stato. Stiamo indagando. Cecchinetta! Cecchinetta! È quello che ha ammazzato con la sverna! E suo marito l'ha visto! E lui sapeva che l'aveva visto, eh! Oh, l'autoressica! Che testo, l'autoressica! Non uscire di casa, non uscire. Perché non mi hai dato il reto. Perché non mi hai dato il reto. L'autoressica! Aiutami, 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 aiutami. No, 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 Rosa! Rosa, si calmi! Non è vero! Non è vero. L'ho inventato. Non sappiamo ancora niente di suo marito. Mi serviva quel nome. Mi scusi. Come vi permettete? Fate quello che volete voi, eh! Io devo trovare un assassino. Mio marito, dov'è? Lo stiamo cercando. Allora, quella mattina, dopo che ha visto Cecchinetta, che cosa ha fatto? Lo so, lo so, cosa vorrebbe dirmi. Vorrebbe dirmi, va all'inferno, sporco sbirro. Non lo dovevate dire, quello che avete detto. Che era, che era morto. Non si scherza. Chi è questo Cecchinetta? Non è il suo vero nome. È uno chiamato così perché gioca, no? Il nome, Rosa? Non lo so. Ma non te l'ha detto tuo marito? No. E tu non l'hai vista in faccia? No. E perché sei andata da Don Mariano? Per cercare di venderci qualche cosa. Qualche uovo.